e intanto è arrivato anche il crono di Mirko Lazzaretto 30 e 23 è il risponso ufficiale per lui che ha concluso nella quinta serie quarta serie intanto in vasca con Edoardo Longhini in corsia 1 per il tocco c'è lui 23 25 e 93 risponso ufficioso terza serie alla partenza